Ciao ragazze! Allora, poco fa mi è arrivato un pacco, questo qua da... tipo lo aspettavo da una settimana, quindi neanche tantissimo e avevo fatto un ordine su questo sito francese che si chiama Romazon sono tutti i prodotti che ho preso sotto consiglio di mia sorella sapete che mia sorella per me è tipo la mia guru personale per i prodotti naturali e la mia consigliera perché io non è che... non è che mi informi tanto su queste cose e a differenza sua che invece ne sa molto più di me quindi ho fatto questo ordine, non ne faccio... non faccio quasi mai degli ordini online perché io quando... allora io quando desidero qualcosa lo devo avere subito quindi devo andare in un negozio e comprarmela e l'attesa, quindi stare lì e aspettare che arrivi il pacco un po' mi... sono sempre lì che dico arriverà oggi, arriverà domani, quindi ne faccio veramente però è vero anche che facendo gli ordini online perché quando arriva il pacco sono super felice comunque a parte questo volevo aprire il pacco insieme a voi perché di nuovo ho visto dei video di mia sorella in cui apre il pacco insieme alle ragazze che la seguono e quindi mi sembrava carino aprire questo pacco insieme a voi questo appunto è il pacco e io ho aperto solo qua lo scotch appena arrivato poi mi sono fermata perché volevo farlo insieme a voi è appunto il sito e a Romazon e faccio vedere un po' cosa... questo è un catalogo penso, sì, cosa ho preso allora i prodotti dovrebbero essere... guarda, sembrano delle Vixie sì, è vero si possono schiacciare? allora questo questo e questi due questi qua sono tutti prodotti naturali e il primo che voglio farvi vedere è questo prodotto che si chiama Relax Rides ed è un prodotto particolare che ho provato mi ha fatto provare mia sorella e infatti ho voluto assolutamente prenderlo perché serve per andare a distendere e attenuare le rughe d'espressione quindi ad esempio le zampe di galina le rughe qua intorno alla bocca e la cosa incredibile di questo prodotto è che ha un effetto istantaneo, immediato cioè voi lo applicate e dopo qualche secondo vedete sparire le rughe e infatti quando l'ho provato ero esterefata cioè ero lì proprio che mi guardavo lo specchio e non ci potevo credere perché poi hai anche proprio questa sensazione di pelle tirata si vede proprio subito il risultato e voglio fare, voglio utilizzarlo per dieci giorni su di me perché raggiunge il risultato massimo con un'applicazione appunto di dieci giorni e poi voglio regalarlo a mia mamma che sarà sicuramente felicissima di provarlo poi oltre a questo ho preso l'altro prodotto invece sono curiosissima di iniziare a provarlo cosa stai facendo tu? amore sono irresistibili stai scopriando i cosi, ti prego Andrea tutti, tutti Andrea ti prego ok ok cioè se partiamo con quelle cose lì si inizia anch'io, non finiamo più comunque Andrea comunque tornando a noi sono curiosissima di iniziare a provarlo ad utilizzarlo regolarmente perché l'ho provato solo una volta è il, spero che si lega così è il Gasul che è questa argilla saponifera ricca di minerali questa è originaria della zona del Marocco e praticamente agisce, funziona un po' come uno shampoo quindi ha un'azione detergente e a differenza però degli altri shampoo di shampoo normali, diciamo non va ad irritare le ghiandole sebacee quindi è particolarmente indicata per chi soffre di dermatite seborroica come me quindi spero con tutto il cuore che mi aiuti per il problema che io ho della dermatite seborroica e una cosa da ricordarsi che mi ha detto mia sorella e che dico anche a voi perché magari se volete provarlo siete curiosi di vedere un po' com'è evitate il contatto con il metallo cioè questa argilla non deve entrare in contatto con il metallo quindi quando andate a prepararla perché bisogna mischiare insieme all'acqua evitate di utilizzare magari i cucchiai metallici utilizzate i cucchiai in legno o ciotole di plastica? di qualche curiosissima sì penso proprio di sì anche la plastica sì penso proprio di sì perché è il metallo che va evitato comunque di plastica, ceramica, vetro e la cosa incredibile appunto che mi diceva mia sorella che ho visto perché l'ho usato solo una volta su di me è come rende i capelli cioè sono lucidissimi, brillanti, voluminosi si ha un po' l'effetto che si ha con quelle schifezze di shampoo che contengono ingredienti schifosissimi che sembrano rendere belli i capelli ma non sono in realtà belli quindi tutti lucenti, luminosi ogni capello separato dall'altro quell'effetto lì ma ovviamente non ha tutte quelle schifezze perché è un prodotto totalmente naturale e può essere utilizzato in realtà oltre che sui capelli mi diceva mia sorella anche per fare delle maschere al viso cosa sono tutte queste cose? per fare delle maschere al viso quindi unirle insieme al miele, yogurt insomma le cose che utilizzate di solito per farvi le vostre maschere e anche per eliminare i punti neri per andare a schiarire le macchie della pelle io su di me personalmente a me interessa risolvere in primis il problema della dermatite che mi sta uccidendo e il secondo è il fatto appunto di utilizzare dei prodotti che siano proprio sui capelli perché appunto io avendo questo problema ho eliminato totalmente shampoo schifosi io li chiamo così adesso comunque mi piace l'effetto che anche se utilizzo dei prodotti naturali sui capelli comunque ho l'effetto del capello bello lucente, luminoso e insomma voluminoso dimentichi che si può usare anche dentro i vasi come con cime ci fai conoscere le piante ma chi è che lo dice questo? tesoro sei una boccalona madonna veramente? mi dice anche me mi sono dimenticata di dirvi i prezzi di queste cose magari può esservi utile allora questo qua è Relax Rides 4,90 euro e il Gazool invece Gazool 500 grammi 5,50 euro che secondo me non è niente male perché comunque c'è tantissimo prodotto dura ne basta veramente pochissimo e quindi dura tanto stavo pensando che voglio fare un periodo ovviamente abbastanza lungo e di utilizzo appunto di questa argilla e poi magari se vedo che appunto riesco realmente a risolvere il problema dermatite voglio fare magari una recensione su questo prodotto perché ho delle buone speranze spero veramente con tutto il cuore che possa avere insomma dei benefici particolari sulla mia situazione dermatite e poi oltre a queste cose ho preso anche anche questa una figata non vedevo l'ora che arrivasse il DHA che adesso ho detto anche cos'è il DHA se avete visto il video di mia sorella saprete già cos'è a proposito vi lascerò giù il link perché io vi dirò giusto due cose perché non lo conosco abbastanza bene so solo quello che appunto mi ha detto mia sorella è un auto diciamo auto abbronzante totalmente naturale e questa secondo me è una cosa bellissima, fantastica perché non andiamo a fare le lampade che vi sconsiglio vivamente io avrò fatto in quasi 28 anni di vita avrò fatto una lampada giuro le lampade sono super 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 danose e poi costano anche quindi sia per la salute sia per i portafogli vanno evitate il DHA invece è appunto un auto abbronzante che però è totalmente naturale quindi non ha alcun tipo di danno sulla nostra pelle e va, se mi ricordo bene va ad abbronzare la pelle solo superficialmente oppure se siete già abbronzate io e Andrea siamo andati ieri in piscina infatti dopo voglio assolutamente usarlo se siete abbronzate va a rafforzare questa abbronzatura e mia sorella mi consigliava di utilizzarlo insieme all'aloe vera che ho preso anche quindi devo ancora utilizzarlo più di questo non vi so dire se volete avere delle info più dettagliate più precise avete appunto il link di mia sorella giù che io vi straconsiglio perché se voi adorate l'abbronzatura adorate essere abbronzate però appunto non volete farvi le lampade e anche stare sotto il sole non è che faccia poi così tanto bene insomma questa è una soluzione economica e naturale per chi come me quando c'è il bel tempo sta all'ombra ecco Andrea è una di quelle che per esempio sta sempre all'ombra che può essere anche un bene insomma però se appunto volete essere belle abbronzate in modo naturale è un'ottima soluzione e questo costa non riesco a trovarlo ah qua DHA 7 euro 7 euro 2 quindi 3 euro e 51 io ne ho preso 2 perché il signorino qui davanti a me voglio fare la cavia perché lui vuole fare cioè ne vogliamo abusare sostanzialmente nel senso che vabbè uno per lui uno per me e ultima cosa che ho preso si? qua l'ultima cosa che ho preso è questo ah non riesco ad aprirlo eccolo qui questo gel d'aloe vera io ce l'ho già avevo già l'aloe vera quella del il tubetto dell'equilibra però quella è il 98% invece questa qua è totalmente naturale ed è bio quindi volevo assolutamente provarla quindi andrò a mischiare questo gel d'aloe con il DHA e me lo spalmo sul viso sul corpo e voilà saremo abbronzate per il matrimonio di tua sorella hai visto? abbronzate tesoro mi dai sempre del femminile no non hai mi hai scappato abbronzati comunque voglio assolutamente provarlo perché anche di questo prodotto mia sorella me ne ha parlato bene e niente il gel d'aloe costa 250 ml 11,90 sembrava 250 euro no 250 ml 11,90 che secondo me non è neanche eccessivo perché io quello dell'equilibrio che appunto il 98% l'ho pagato 8 euro e non è così tanto e niente questo è appunto tutto quello che ho preso su Aromazon e non vi do altre informazioni mi fermo a questo perché è un abito che non conosco particolarmente quindi non voglio sbilanciarmi dire cose che magari non conosco più di tanto vi dico appunto il minimo indispensabile quello che mi sono fatta dire da mia sorella poi appunto se siete interessate giù avete il link al suo video e lei è molto più esperta di me e niente sono super super curiosa di iniziare sveglia butta carta devo andare a buttare la carta adesso andiamo a buttare la carta e niente spero di esservi stata in qualche modo utile spero di avervi dato qualche ispirazione una cosa che voglio dirvi ho detto anche in altri video ma lo voglio dire anche qui cercate di utilizzare prodotti naturali per la cura della pelle per la cura dei capelli mi raccomando è super super importante e ve lo dice una che ne ha pagato le conseguenze perché infatti io adesso soffro di dermatite e se qualcuno mi fa vedere uno di quei shampoo schifosi mi ha detto che gli sputo in faccia ma siamo quasi lì cioè state veramente attenti è una cosa molto molto importante poi avete visto che anche come prezzi non è che cioè più o meno anche prodotti che si trovano con ingredienti schifosi non è che costi molto meno niente vi mando un bacione andiamo a buttare la carta ciao sono alti 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 e li adoro letteralmente perché sono di questo colore aspetta che magari provo a farveli vedere bene di questo colore